ciao ragazzi e bentornati su hard rock crypto qui è muro per voi oggi voglio parlarvi di rain un tempo conosciuto come act.io una piattaforma che permette di gestire il proprio conto i risparmi e gli investimenti quotidianamente il tutto guadagnando interessi giornalieri e con la possibilità di spenderli ottenendo una carta di debito visa personale e in questo video andremo a vedere tutte le sue caratteristiche principali ma prima di cominciare ragazzi se vi piacciono questi contenuti vi invito come sempre a sostenerci spaccando il tasto del like qua sotto iscrivetevi al canale e accendete la campanellina per restare sempre aggiornati e vi aspettiamo anche sui nostri social e inoltre tutto quello che dirò in questo video non rappresenta assolutamente un consiglio finanziario e mi raccomando fate sempre le vostre ricerche prima di investire e un ultimo disclaimer vi ricordo che l'acquisto di asset digitali è soggetto a un elevato rischio di mercato e volatilità dei prezzi le variazioni di valore possono essere significative e avvengono rapidamente e senza preavviso quindi massima attenzione ragazzi bene ora possiamo partire rain nasce dalla compagnia automata con sede in quattro paesi diversi in europa tra cui anche l'italia e a livello di compliance la filiale italiana la automata eco limited con sede legale in via archimede a roma è registrata regolarmente presso l'organismo agenti e mediatori l'oam come fornitore di servizi di asset virtuali bene vista la compliance ora possiamo passare a tutti i servizi che offre rain ed eccoli qua innanzitutto un account personale con un iban dedicato tre diversi tipi di carte visa con le quali si possono spendere i propri euro o gli asset crypto ma anche gli interessi guadagnati sulle nostre monete poi ci sono tre diverse versioni di casse forti per ottenere interessi sui propri asset un marketplace con oltre 100 cripto per poter fare trading e infine anche la possibilità di accedere a un cripto portfoglio automatizzato partiamo quindi dall'inizio allora con rain aprire un conto è facilissimo e vi bastano solo cinque minuti per ottenere il vostro iban dedicato che potete utilizzare per inviare e ricevere euro in 36 paesi e inoltre avrete anche la possibilità di richiedere una carta visa esclusiva da sfruttare per fare acquisti con i vostri euro ma anche con le vostre cripto è tutto molto semplice dopo aver scaricato l'app disponibile sia su app store che su google play vi basta registrarvi con i vostri dati personali completare il kyc con i vostri documenti ed una prova di indirizzo e dopo di che potrete fare il vostro primo deposito e iniziare a sfruttare tutti i servizi della piattaforma con la possibilità di iniziare a guadagnare subito e vi ricordo anche che per qualsiasi problema è anche disponibile un servizio clienti con sede in francia pronto ad aiutarvi in qualsiasi momento passiamo ora alla sezione riguardante gli investimenti con rain è possibile fare cripto trading come un vero pro ma per chi non è esperto c'è anche la possibilità di un trading facile senza conoscenze pregresse facendosi aiutare dagli esperti e gli algoritmi di rain che guideranno l'utente nella creazione della sua strategia cripto sulla base delle ultime analisi tecniche e notizie di mercato e sulla piattaforma sono disponibili oltre 100 cripto da poter comprare vendere scambiare oppure holdare e inoltre c'è anche la possibilità di investire in un portafoglio cripto automatizzato che tra le sue caratteristiche ha un sistema di gestione della volatilità algoritmi ad alto rendimento un monitoraggio attivo da parte degli esperti di rain e vi permette di investire in un portafoglio cripto diversificato e quindi con questo strumento investire in cripto diventa molto semplice perché l'intero processo di investimento viene gestito dagli algoritmi creati dagli esperti interni di rain e con pochi clic i vostri fondi vengono automaticamente allocati su più cripto massimizzando così i rendimenti e minimizzando le perdite in tempo reale uno strumento che potrebbe essere molto utile per chi è meno esperto ed è appena arrivato nel mondo cripto tra l'altro si può settare anche il rapporto rischio rendimento di questo strumento automatizzato con 5 diversi profili di investimento e quindi si può passare da uno stile più conservativo ad uno più aggressivo in base alla propria propensione al rischio ad esempio un profilo conservativo è caratterizzato da un'esposizione limitata ai token volatili con una predominanza di stable coin mentre invece al contrario un profilo aggressivo è caratterizzato da una maggiore esposizione ai token volatili con una minore percentuale di stable coin è comunque possibile cambiare il proprio stile di investimento in qualsiasi momento ora arriviamo alla moneta nativa di rain l'acteo coin con ticker a k t io che è un token rc20 quindi su rete etereum e funge da utility token e anche con la possibilità di bloccarli in staking per un anno e guadagnare interessi con un apy che va dal 5 fino al 20 per cento in base alla membership a cui si appartiene e che andremo a vedere tra poco e tra l'altro se si mettono in staking almeno 1000 actio si ottiene lo status di ambassador che porta ad ulteriori vantaggi come ottenere un apy maggiore nella sezione earn un tasso più elevato sulle affiliate revenue una riduzione del 30 per cento sulle trading fees e anche una riduzione del 30 per cento per fare l'upgrade alla world membership adesso invece passiamo alla sezione earn che offre tre soluzioni diverse per guadagnare interessi sui nostri asset iniziamo con il flex volt che ci dà un apy standard del 5 per cento che raggiunge il 6,5 per cento con lo status di ambassador con interessi che vengono pagati quotidianamente come potete intuire dal nome con la cassaforte flex i nostri asset non vengono bloccati e potete ritirarli in qualsiasi momento 24 ore su 24 7 giorni su 7 poi passiamo al term volt in questo caso l'apy aumenta al 7 per cento fino ad arrivare al 10 per cento per gli ambassador e anche qui gli interessi vengono pagati ogni giorno ma in questo caso per ottenere una ricompensa maggiore il nostro capitale va bloccato per 12 mesi ed il withdraw può essere effettuato solo sui guadagni ricevuti e infine l'ultimo prodotto è il blockchain volt ed è quello che ha i rendimenti maggiori anche qui come per le altre casseforti interessi pagati giornalmente ma qua l'apy è del 12,7 per cento e raggiunge addirittura il 18,9 per cento per gli ambassador ma in questo caso i fondi vanno bloccati per due anni ed anche in questo caso per il periodo di blocco si possono ritirare solo gli interessi guadagnati e per chiudere arriviamo alle carte di debito che offre rain e alle varie membership carte come vi dicevo prima che vi permettono di spendere in qualsiasi momento i vostri euro ma anche le vostre cripto a livello di sicurezza in caso di furto e smarrimento potete bloccarla in un istante comodamente dalla vostra app senza dover chiamare il servizio clienti e sempre dall'app potete anche modificare il vostro pin in qualsiasi momento ci sono tre diversi tipi di carta con tre diversi livelli di membership che sono freedom word ed elite con il piano freedom che è quello base avete diritto alla carta visa in bio pvc con un costo per l'emissione e la spedizione di 9 euro e 90 ogni nuovo utente che si iscrive fa automaticamente parte della freedom membership che non ha nessuna quota associativa quindi non pagate nulla a parte le spese di spedizione della carta per quanto riguarda invece il livello world la quota di adesione è di 150 euro all'anno con lo sconto del 30 per cento e quindi 105 euro se si è ambassador ed infine per poter accedere a livello elite bisogna avere sempre un saldo sull'app di almeno 50 mila euro in token actio in staking comunque ragazzi vi lascio in descrizione i link per poter consultare comodamente la tabella e tutte le varie caratteristiche di queste carte in base alla membership a cui si appartiene bene ragazzi con rain è tutto per oggi se siete interessati a registrarvi con il nostro link che trovate qua sotto in descrizione tutti i nuovi utenti avranno la possibilità di guadagnare fino a 200 euro in token actio e ne approfitto per ricordarvi che questi non sono consigli finanziari e fate sempre le vostre ricerche prima di investire come sempre se vi è piaciuto questo video disintegrate il bottone del like qua sotto iscrivetevi al canale e accendete la campanellina per rimanere sempre aggiornati vi aspettiamo sui nostri social e alla prossima sempre qua su hard rock crypto GAU Grazie a tutti.